Uno scenario naturale grandioso, scrigno di tesori che aspettano di essere scoperti. Qui, 200 milioni di anni fa, i dinosauri camminavano nella bassa marea, quando queste terre erano lambite dal mare. Qui il cacciatore di Mondeval veniva sepolto con tutto il suo corredo a oltre 2000 metri di quota. Il suo scheletro, perfettamente conservato nel Museo Cazzetta, a Selva di Cadore, ci dà la straordinaria opportunità di rivedere il volto del nostro antenato del Mesolitico.